via libera rendi conto del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 a favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza mentre il gruppo lega ha votato contro i fratelli d'italia e movimento 5 stelle si sono astenuti approvato all'unanimità invece un ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliere elisa tozzi del gruppo misto toscana domani in merito alla destinazione dell'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'alto mugello colpiti dal maltempo entrando nel merito del rendiconto le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite ammontavano ad oltre 29 milioni di euro per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno le previsioni definitive effettive di entrata e di uscita sono pari a 38 milioni 453 mila euro l'avanzo di amministrazione di circa un milione e 700 mila euro registra una tendenza positiva il gruppo del pd ha votato in maniera favorevole al consuntivo del consiglio regionale per l'anno 2022 perché è un consuntivo che ci parla di una gestione attenta o pulata e che guarda anche al futuro le risorse che vengono assegnate al consiglio regionale dalla giunta che ammontano al 98 per cento del bilancio del consiglio sono risorse che sono costanti negli anni quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa non c'è aumento di costi non c'è aumento del costo della politica anche da anzi dal dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione ad esempio una per tutte cito il risparmio di 300 mila euro sulle utenze in tempi in cui il costo delle utenze è esploso aver risparmiato 300 mila euro è sicuramente un segno di attenzione particolare c'è un avanzo d'amministrazione di un milione di un milione e 700 mila euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal consiglio a breve in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario ecco questo avanzo d'amministrazione sarà destinato in base alle decisioni dell'ufficio di presidenza oggi abbiamo anche approvato unanimemente un ordine del giorno che impegna l'ufficio di presidenza del consiglio a segnare delle risorse ai comuni sono stati toccati dagli eventi alluvionali comuni della toscana ovviamente così come potranno essere finanziate iniziative come quelle dello scorso anno a sostegno dei comuni per la valorizzazione delle aree a verde pubblico oppure l'allestimento di parchi giochi fruibili anche da ragazzi persone con disabilità quindi è una gestione oculata attenta che guarda al futuro in quanto sono previsti anche investimenti forti per la digitalizzazione perché questo è uno dei temi importanti anche del PNRR la transizione digitale investimenti che prevedono anche il potenziamento dell'infrastruttura informatica delle infrastrutture tecnologiche sia a disposizione degli uffici che anche dei consiglieri. Sono direi soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'aula proprio in serie di approvazione del rendiconto del consiglio noi avevamo un avanzo importante cioè cosa significa avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consigliare ecco oggi l'aula in modo direi unanimo e questo mi dà particolare soddisfazione ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle diciamo verso quelle zone che hanno subito danni ingenti e situazioni di grave difficoltà che sono i comuni appunto colpiti dall'alluvione in Alto Mugello. Sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale lo sappiamo bene sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso la diciamo la percorribilità della loro viabilità il collegamento per le attività economiche per i cittadini è importante riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica diciamo si trova sui temi sulle necessità e sulla concretezza possiamo fare anche dei piccoli direi anche dei piccoli capolavori perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini quando questo accade e lo si fa in modo unanime io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. Il tema del rendiconto del consiglio regionale è stato affrontato con particolare attenzione in primo luogo in commissione controllo dove io siedo rappresentanza della lega e a noi intanto è pazzo importante quello che è emerso dalle audizioni dei dirigenti sono stati sentiti il segretario generale è stato sentito il dottor mascagni in particolar modo il dottor mascagni ha messo in evidenza considerazioni che anche noi condividiamo e cioè che gli avanzi di bilancio questi avanzi importanti di bilancio in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali come per esempio ormai va di moda al covid sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del consiglio regionale ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95 per cento di quella che è la loro portata perché perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è al nostro avviso comprensibile è bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo abbiamo in particolar modo evidenziato invece che una parte di queste risorse sia spesa per avere a disposizione dei consiglieri regionali fondi per le proposte di legge le proposte di legge che sono un diritto dei consiglieri regionali se non hanno le gambe cioè se non hanno le risorse per poter essere poi effettivamente portate in fondo non hanno senso perché sono un diritto sostanzialmente negato da questo punto di vista abbiamo anche presentato un ordine del giorno che però è stato ritirato perché ci ha rassicurato il presidente del consiglio e lo stesso ufficio di presidenza che quella bozza che è a disposizione del consiglio da parecchio è ormai in fase di gestazione finale e sarà rapidamente portata all'approvazione per individuare risorse importanti per i progetti di legge per i consiglieri regionali e quindi questa è una buona notizia naturalmente per dare uno stimolo forte nella direzione che abbiamo e che ho esplicitato sino adesso abbiamo votato contrario al bilancio al rendiconto scusate del consiglio regionale il rendiconto del consiglio regionale noi ci siamo astenuti ho sollevato personalmente come presidente un doppio problema da una parte avanza un milione e settecento mila euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del consiglio che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri ma soprattutto ancora una volta la giunta ha approvato il rendiconto generale della regione che comprende anche il rendiconto del consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani come al solito quindi il consiglio non può entrare nel merito ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri è un percorso che non ci piace l'abbiamo fatto presente al presidente gianni e al presidente mazzeo il rendiconto ha sempre una grave lacuna quello di mancare di dare risorse ai gruppi ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge in questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa e questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma la democrazia perché anche gli eletti della minoranza delle opposizioni hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia oppure a non essere nemmeno presentate questo è quello che continuiamo a chiedere con forza da anni perché è un modo per silenziare quella che è la nostra attività e soprattutto per azzerare le nostre prerogative e questo su questo noi continueremo a dare battaglia fino all'ultimo consiglio regionale approva il proprio rendiconto un atto importante che ne determina da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza se penso alle iniziative rivolte ai giovani penso alle associazioni penso al mondo della cultura dello sport quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana nel contempo grazie all'atto approvato dal consiglio regionale vengono messe da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione che ha coinvolto ovviamente la Romagna ma anche un pezzo importante della Toscana il consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 20 voti a favore di PD e Italia Viva 8 contrari di Lega Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani e due astensioni del Movimento 5 Stelle il bilancio di previsione 2023 e il piano di investimenti di ente e terre regionali illustrato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale Ilaria Bugetti il bilancio segna un valore di produzione di 4 milioni e 181 mila euro con costi di produzione pari a 4 milioni tra gli scostamenti più significativi rispetto al 2022 un aumento di 52 mila euro del valore della produzione si prevedono poi per i ricavi per prestazioni commerciali un incremento di valore di circa 30 mila euro per quanto concerne i contributi per l'attuazione del piano di attività si prevede un leggero aumento rispetto al preventivo 2022 di circa 19 mila euro attestandosi sul valore di 766 mila euro il valore complessivo dei trasferimenti da parte di regione toscana è pari a 1 milione 476 mila euro come di consueto molto inferiore ai costi di produzione che per il 2023 ammonteranno a 3 milioni 634 mila euro l'ente terre si conferma un ente solido che sta investendo molto aumentando addirittura di 52 mila euro questo sicuramente è dovuto ad un effetto positivo dopo la pandemia quindi la ripresa anche della vendita dei prodotti e delle attività da fare sicuramente hanno manifestato una carenza di personale a cui la regione sta provando a trovare una soluzione però ecco la bellezza di questo posto il lavoro che noi abbiamo avuto modo appunto anche nella visita di toccare con mano è stata sicuramente una visita positiva e quindi la solidità come dicevo prima di questo ente è quella di essere diventato e di diventare ancora di più un punto di riferimento internazionale quindi con una grande richiesta da parte di tutto il mondo per venire a studiare in questo particolare contesto quindi mi riferisco alla banca del germoplasma mi riferisco all'attività dei butteri mi riferisco a tutto quel parco che è sicuramente oggetto di pernottamenti ma anche di studi per giovani ragazzi che vengono a fare campi per imparare e quindi è un polmone della Toscana veramente importante per attività storiche che altrimenti andrebbero perdute. L'azione di ricerca del germoplasma è unica con una serie di ricerche sulle razze autoctone sia appunto da un punto di vista faunistico ma anche floreale e quindi abbiamo lì una particolare situazione che lo rende unico al mondo ed è questo il motivo per cui molti vengono a studiare e questa banca dati va preservata. Ci sono possibilità anche di sviluppo e quindi questo secondo noi potrebbe ancora di più rilanciare questo parco nel panorama internazionale. Dal 16 al 18 giugno a Montelupo Fiorentino torna l'edizione 2023 del Festival Ceramica con la mostra mercato, le esposizioni, i laboratori anche per i più piccoli e spettacoli. Un viaggio nella produzione della ceramica di Montelupo Fiorentino tra storia, tradizione e contemporaneità. Montelupo Fiorentino nel prossimo weekend sarà la capitale toscana, la capitale italiana della ceramica. È bello sapere che si può ripartire, questo è un motivo davvero di ripartenza dopo il difficile periodo della pandemia, dopo le difficoltà che i tanti produttori hanno avuto e stanno avendo anche per il caro energia. Ceramica è arte, ceramica è cultura, ceramica è il racconto di un territorio che lotta, che rialza la testa e che con le sue capacità, con la sua manualità, con la sua artigianalità offre prodotti che ci invidiano in tutto il mondo. E allora che siano tre giorni belli, tre giorni di ripartenza, tre giorni su cui costruire un futuro migliore per quel territorio. Beh, è una manifestazione per noi molto importante, quest'anno peraltro che ha delle ricorrenze importanti. Sono 50 anni che è stato scoperto il Pozzo dei Lavatoi, quello da cui è partita la narrazione, la nostra storia, da cui si è ridisegnata la storia della ceramica montelupina, 40 anni dal primo nucleo del museo della ceramica di Montelupo, a Palazzo Podestarile e 30 anni dalla prima manifestazione, la prima festa della ceramica. Quindi sono tre ricorrenze che ben si adattano anche al nome che abbiamo dato al sottotitolo per così dire alla manifestazione, la macchina del tempo. È una manifestazione importante dal punto di vista culturale, che vuole raccontare la ceramica non solo quella artistica, quella tradizionale, ma soprattutto la ceramica contemporanea. Sì, Montelupo torna a festeggiare il suo Festival della ceramica dopo due anni di stop, dovuti ovviamente alla pandemia. Torniamo al format originale del Festival della ceramica di Montelupo, torniamo con molti artisti ospiti, con una bella mostra a mercato dell'artigianato nazionale e internazionale, con dei workshop e dei cantieri d'arte, quindi anche con una componente esperienziale importante sulla ceramica contemporanea e con il tradizionale programma di spettacoli e laboratori per ragazzi. Sì, la festa della ceramica, che ora si chiama ceramica, proprio perché la ceramica è ridiventata il nucleo vero fondamentale di questa manifestazione. Una a tre giorni richiamerà i ceramisti più importanti da tutta Italia e non solo, anche dall'estero. Un'occasione importante per rifare il focus su quanto sia radicata storicamente questa tradizione a Montelupo e nella nostra regione e come ancora oggi sia importante legata al tema del design, dell'arte. E quindi Montelupo in questi tre giorni, con il 2023, ritorna al periodo pre-covid. Torniamo alla manifestazione del ceramica, come avevamo conosciuta prima, e soprattutto sono una grande occasione per conoscere il mondo della ceramica, delle tradizioni toscane, il mondo dell'arte e del design internazionale.